ciao amici bentornati sul mio canale video di oggi vediamo la differenza fra brother e l'anecchi tra le due ricamatrici su grande richiesta visto e anche tutte le domande che mi sono state poste in questo periodo riguardo la broda riguardo l'anecchi quale è meglio con le quali miei consigli visto che hai entrambe poi una persona che mi segue mi ha consigliato perché non fa un video dove spieghi le differenze delle due macchine e così oggi faccio questo video ma adesso come dico sempre bando alle ciance e all'opera come prima cosa quello che possiamo notare è la differenza di grandezza la brother è più grande dell'anecchi ha anche il suo supporto da ricamo questo qui che è molto più grande di questo dell'anecchi infatti se io adesso vado a confrontarli mettendo appunto questo vicino a questo lo vedete che è molto molto più grande c'è veramente una grandissima differenza questo perché perché la brother monta dei telai più grandi comunque quello che c'è da dire intanto è che l'anecchi quindi la macchina riguardo appunto la ricamatrice necchi quindi questa macchina qui oltre ad essere una macchina di ricamo e anche una macchina da cucire infatti adesso è montata per cucire questa è stata la mia prima riga matrice anche se io avevo già una macchina da cucire avevo scelto questa macchina perché comunque all'epoca non aveva ancora una macchina da cucire elettronica che aveva insomma vari punti e quindi ho deciso di comprare questo è un modo che avevo sia macchina da cucire che macchina da ricamo quindi un punto a favore a differenza della brother che per chi gli occorre entrambe le cose questa è una validissima macchina una bella macchina solida resistente e che comunque ha molte funzioni anche per il cucito oltre che per il ricamo quello che bisogna fare è nel momento in cui decidiamo di trasformarla in ricamo e staccare questa parte qui sotto semplicemente facendo scorrere questo pezzo e ci mettiamo quest'altra poi dobbiamo andare a cambiare il piedino e la placca qua sotto adesso non lo faccio per una questione di tempo però sappiate che come macchina da ricamo basta insomma questi tre passaggi e l'abbiamo trasformata quindi anche semplice e veloce da trasformare e in poco tempo possiamo fare sia i lavori da cucito che da ricamo essendo piccolina è comoda perché così non abbiamo se abbiamo poco spazio è comoda perché appunto essendo piccolina occupa poco spazio quindi se a noi ci occorre una ricamatrice una macchina da cucire e abbiamo poco spazio questa è perfetta secondo me perché ha entrambe le funzioni e veramente con pochissimi passaggi riusciamo a sistemare tutto mentre per quanto riguarda la brother la brode è una macchina come dicevo prima solo da ricamo anche questa basterà quando arriva arriva smontata che basta inserire questa parte e la macchina è pronta bisogna fare un confronto vedere proprio la differenza tra le due macchine così sono accese una domanda che mi viene sempre fatta è la grandezza dei telai perché perché anche in base alle nostre esigenze dobbiamo trovare la macchina che abbia la grandezza dei telai a cui noi più ci può servire ci possono essere utili allora per quanto riguarda la necchi la grandezza dei telai esce con due telai in dotazione e la grandezza sia per l'uno per l'altro è solo questo che vi dico adesso questi sono i telai il telaio viene fornito ora ve lo metto qui così magari lo vedete meglio viene fornito con questa griglia che serve poi per posizionare meglio il tessuto sul telaio e questa è una grandezza di 12 per 18 poi un altro telario che vi viene fornito è quest'altro che ha sempre la sua griglia ovviamente per sistemare i tessuti e questa è un 5 per 7 mentre i telai della brother sono questo che è quello piccolo 20 per 20 e questo che è un 20 per 30 quindi come potete vedere la differenza fra quelli della brother e dell'anecchi è veramente tanto qui abbiamo un'area di ricamo molto molto più grande ma questi sono quelli che ci vengono forniti nel momento dell'acquisto ma volendo noi possiamo acquistarne anche altri possiamo comprare questo che è un 15 per 25 ed ecco comodissimo se dobbiamo fare delle lenzuola oppure questo che è un 13 per 18 poi abbiamo come misura questo che è un 10 per 10 e questo che è un 6 per 2 questo è comodissimo se dobbiamo fare solo delle iniziali quindi diciamo che in base a ciò che dobbiamo andare a realizzare scegliamo la grandezza del telaio così da non sprecare troppo lo stabilizzatore anche questi come quelli dell'anecchi hanno questa griglia dove si può poi posizionare il tessuto per centrarlo e quindi sistemarlo sul telaio un'altra domanda che mi viene posta spesso è come faccio a far passare i file quindi dal compiute o insomma da dove l'ho scaricato alla macchina allora per quanto riguarda l'anetti l'anetti dovete scaricare questo programma ma potete passare tutti i file dal compiute ad un cloud esterno e poi andrete a richiamare quindi il file qui su questo programma e tramite wifi lo passate alla macchina diciamo che è un lavoro un pochino elaborato perché poi bisognerà collegare sia la macchina che appunto l'applicazione al wifi di casa e dovete anche avere quindi un cloud un qualcosa dove poter quindi mandare tutti questi vostri lavori poi direttamente qui andate e li richiamate qui abbiamo diversi lavori che io già ho passato ma per richiamarli quindi dobbiamo andare qui andando qui come vedete va sul mio cloud esterno io poi mi trovo quello che dal computer lo passato al cloud una volta che l'ho selezionato poi me lo passo direttamente e me lo salvo qua questo è per quanto riguarda quindi l'anecchi per la brother la brother non ha qui il wifi interno la macchina quindi per passare i file bisogna scaricarli su un computer e poi salvarli sulla pennetta inserire la pennetta la macchina e salvarli sulla macchina oppure in dotazione vi viene fornito questo cavo dove da una parte c'è la usb che va inserita al computer mentre dall'altra parte c'è quest'altra quest'altra uscita dove praticamente va inserita la macchina così colleghiamo computer e macchina momento in cui li colleghiamo si aprirà una finestra basterà passare il file all'interno di quella finestra e in automatico ce lo troviamo sulla macchina diciamo che come passaggio è un pochino più veloce meno elaborato mentre per l'anecchi è comodissima l'applicazione ma è un più macchinoso perché perché passando il file su un cloud esterno se il cloud ha poca memoria ogni volta dovete ricordarvi poi di cancellarli altrimenti poi vi trovate in difficoltà a passare i successivi mentre per quanto riguarda la macchina quindi della brother quella finestra che si apre è un disco rimovibile temporaneo quindi tutto ciò che andrete a mettere lì dentro e resterà fino a tanto che non staccate poi il cavo al pc e alla macchina momento in cui andate a riattaccare vedrete che poi non ci saranno più quei file perciò bisognerà poi salvarli sulla macchina se vi serviranno anche in futuro quel progetto altrimenti ce l'avete sul computer e quando volete lo rimettete in macchina un'altra domanda che mi viene sempre fatta è se hanno la volgirocchetta la volgirocchetta si ce l'hanno enterambe questa è quella della brother e la volgirocchetta della brother la possiamo utilizzare anche continuando ad avere il filo inserito all'interno appunto del lago quindi non serve levarlo per poi rotolare il filo perché ha un passaggio diverso mentre per l'anecchi è questo il nostro avvolgirocchetta però bisogna ogni volta levare poi il filo da qui per fargli fare il giro per la rocchetta quindi non possiamo continuare a tenere il filo lì ma bisognerà allevarlo al taglia filo allora il taglia filo si ce l'hanno entrambi e sia quando finiscono il ricamo in automatico loro tagliano il filo se è stato impostato che deve essere tagliato quindi tramite le impostazioni o dell'app per quanto riguarda l'anecchi o qui sul schermino o andando qui andando qui facciamo l'impostazione e gli diciamo che deve tagliare il filo ogni volta che finisce il ricamo o quando c'è il cambio filo mentre se noi vogliamo farlo tagliare perché magari è finita la rocchetta sottostante o perché magari tipo ecco l'anecchi che ha anche la macchina da cucire per l'anecchi abbiamo questo pulsante qui mentre per la brother è questo pulsante qui quindi come vedete sono due pulsanti simili perché hanno le forbici quindi semplici anche da capire come fare per tagliare il filo all'infila acqua automatico allora la brother è tutto automatico quindi una volta non abbiamo inserito abbiamo fatto fare tutto il giro al filo schiacciando questo tasso in automatico cielo infila qui dobbiamo solo schiacciare un tasto mentre per quanto riguarda la necchi per l'anecchi dobbiamo infilare quindi fargli fare tutto il percorso al filo e poi dobbiamo far scendere con tramite questa leva questo questo poi andrà qui c'è un piccolo aghetto che infilerà poi il filo all'interno dell'ago quindi questo è un semi automatico a infila filo ma dobbiamo manualmente poi fare l'operazione al pulsante per abbassare l'ago si entrambe hanno il pulsante per alzare abbassare l'ago per quanto riguarda l'anecchi è questo mentre per quanto riguarda la brother è quest'altro quindi su questo sono uguali alla regolazione tensione filo automatica allora la brother si la brother in automatico in base al tessuto e tutto già riesce a calcolare come deve essere la tensione del filo o altrimenti se vediamo secondo noi non va bene possiamo anche andare sulle impostazioni e qui poi dopo regolare la tensione del filo riguardo la tensione filo della necchi dobbiamo andarlo a regolare qui quindi poi schiacciando questi pulsanti andiamo e decidiamo noi a che numero di tensione filo bisogna metterla la domanda successiva invece alla regolazione della pressione o dell'altezza del piedino allora per quanto riguarda la brother si possiamo andare sempre qui sulle impostazioni e da qui poi andiamo e ci cerchiamo quindi ok che è questa a cui l'altezza del piedino e decidiamo noi quindi in base a quello che dobbiamo fare quanto deve essere più alto e più basso questa è una funzione molto molto importante perché se dobbiamo andare a fare dei lavori dove abbiamo magari molto spessore perché dobbiamo mettere delle imbottiture o magari abbiamo dei tessuti molto spesso questa è una funzione utile proprio perché serve così per regolarci l'altezza del nostro piede mentre per quanto riguarda l'anecchi la troviamo qui dietro a diciamo meno altezza quindi diciamo se dobbiamo fare delle cose molto imbottite abbiamo un po di difficoltà a differenza della brother che il piedino si alza molto di più allora un'altra domanda è via il sensore della spoletta del filo superiore se si si può escludere allora entrambi hanno la funzione per quanto riguarda la spoletta superiore quindi questa che sta qui sopra cosa significa che al momento in cui la spoletta è quasi terminata o è terminata in automatico la macchina si blocca questo sia per la brother che per l'anecchi ed entrambi si possono esclude l'anecchi sempre utilizzando quell'applicazione che vi ho fatto vedere mentre per la brother se volete escluderlo dovete andare sempre qui e poi cercare dove vi viene indicato appunto riguardo la spoletta superiore la stessa cosa vale per la spoletta quindi per quanto riguarda la rocchetta che è qui sotto sia per l'una che per l'altra si può fermare la macchina se avete deciso di mettere che la macchina si blocca al momento in cui finisce oppure potete eliminare questa funzione per la brother sempre tramite questa schemino mentre per l'anecchi sempre tramite l'applicazione un'altra cosa l'applicazione dell'anecchi è adatta sia per i telefoni ios che per i telefoni android e quindi non avete problemi si può regolare la velocità del ricamo si si può regolare sia per l'uno che per l'altra per la brother sempre andando qui poi andando avanti troviamo dove regolare appunto questa velocità questa è quella velocità di dei punti va da un minimo 350 punti al minuto a un massimo di mille e cinquanta punti al minuto mentre per quanto riguarda l'anecchi si può sempre regolare la velocità spostando semplicemente questa leva a tre velocità lento medio e veloce però non sappiamo quanto al minuto non ci viene specificato questa levetta e anche per quanto riguarda poi il cucito se vogliamo comunque cucire più lento veloce o medio si può cambiare la dimensione dell'anteprima l'anteprima ciò che noi vediamo quindi quando andiamo a scaricare un disegno facciamo conto prendiamone uno qui che già è presente non uno a caso ok noi vogliamo ad esempio modificare quest'anteprima quindi vederla più grande o più piccola si può fare si può fare direttamente dalla macchina tramite le impostazioni per la brother e si può fare anche per la necchi tramite l'applicazione poi un'altra domanda che mi viene posta spesso è se si può cambiare la misura del telaio si ad entrambe sempre utilizzando per la brother le impostazioni mentre per l'anecchi l'applicazione ok un'altra domanda che io ritrovo cioè secondo me molto molto utile è ha la possibilità di inserire l'imbastitura nel telaio questo perché perché molte volte noi in telaiamo solamente lo stabilizzatore e poi il tessuto lo appoggiamo sopra facendogli fare l'imbastitura intorno al disegno questo ci bloccherà meglio il tessuto per poi quando andrà a ricamare questo si può fare si può fare sia per la brother direttamente insomma una volta che abbiamo scaricato il disegno andiamo qui sul ricamo e poi inseriamo l'imbastitura vedete è apparso direttamente il contorno mentre per quanto riguarda l'anecchi in automatico ci viene fatta quindi quando andiamo a scaricare il disegno sulla applicazione lo troviamo già con l'imbastitura si può regolare l'intensità della luce allora per la brother possiamo regolare sia l'intensità della luce quella che va a illuminare il nostro telaio e anche per quella che va a illuminare lo schemino per quanto riguarda l'anecchi l'intensità della luce che va a diciamo sul telaio non si può modificare è così mentre per quanto riguarda l'intensità della luce dello schermino quello ovviamente utilizzando un supporto che può essere un telefono un tablet un ipad quello che sia andando sulle impostazioni del nostro supporto li andiamo la modifichiamo per la brother in più anche il risparmio energetico cosa significa che inserendo questa funzione nel momento in cui la macchina non viene utilizzata per un certo periodo in automatico si spenge altra cosa importante da dire è nel momento in cui facciamo conto che per qualche motivo salta la corrente o la macchina si spenge e non ha finito il ricamo cosa succede bisogna ricominciare da capo come bisogna fare allora per la brother se dove si succede una cosa simile o anche voi magari l'andate a spengere per errore o perché magari vi dovete allontanare il ricamo lo volete continuare successivamente per la broda non è un problema perché rimane in memoria fino a dove è arrivato il ricamo nel momento in cui l'accendete continua da lì in poi mentre per l'anecchi purtroppo non rimane in memoria quindi bisogna andare sull'applicazione e poi dall'applicazione andare avanti cercando di ritrovare il punto di dove era rimasta la macchina quanti ricami vengono dati in dotazione allora per quanto riguarda la brother già all'interno della macchina quindi adesso vi faccio vedere qui se non diamo modifica ricamo o ricamo direttamente troviamo questi che sono dei ricami che già sono all'interno della macchina abbiamo esattamente 105 ricami già caricati 18 font 126 cornici e 13 ricami spolina i ricami spolina che sarebbero poi questi sono dei ricami praticamente un po più particolari sono dei ricami in 3d vengono in questo modo perché perché sotto noi nella spolina anziché mettere il classico filo andiamo a mettere un filo o un po più spesso un cordoncino oppure possiamo metterci una fettuccia una fettuccia un qualcosa dove al momento in cui viene fatto il ricamo questo risulterà in 3d poi se la cosa vi può interessare siete curiosi fatemelo sapere sotto nei commenti farò un video in tal proposito mentre per quanto riguarda l'annecchi l'annecchi già sull'applicazione quindi non nella macchina ma nell'applicazione mi vengono forniti 70 ricami e e due alfabeti quindi diciamo molto meno riguardo quelli della brode un'altra domanda che molto spesso mi viene fornita è ma una volta che abbiamo scaricato una volta che abbiamo scaricato il disegno sulla macchina può essere modificato ok per la brother si possiamo modificarlo possiamo ingrandirlo rimpicciolirlo ruotarlo specchiarlo possiamo cambiare anche i colori che vedete qui ci sono i vari colori del disegno possiamo anche andare a modificare possiamo aggiungere delle scritte le scritte le possiamo anche curvare ruotare specchiare diciamo possiamo fare tantissime modifiche questo per quanto riguarda la broda se dobbiamo fare delle modifiche non dobbiamo andare su ricamo ma sono modifica ricamo e poi da qui una volta che ci siamo selezionati il nostro ricamo possiamo andare quindi e fargli fare tutte queste modifiche che vedete qua possiamo aggiungere anche altri disegni quindi io posso anche fare aggiungi e poi ne scelgo un altro da mettere vicino a quello ad esempio ok ma così lo sposto ci viene fornito anche il pennino diciamo per lavorare meglio e quindi possiamo poi creare noi l'impaginazione quindi come vogliamo fare il ricamo per quanto riguarda invece la necchi queste operazioni vanno fatte tutto quanto tramite l'applicazione quindi andando sull'applicazione andiamo scegliamo un disegno ad esempio scegliamo questo ok una volta che abbiamo scelto il disegno andiamo avanti e qui poi possiamo decidere di muoverlo vedere l'anteprima il telaio ma per quanto riguarda le modifiche a parte decide di ruotarlo ingrandirlo rimpicciolirlo cioè è molto limitato possiamo aggiungere volendo altri disegni quindi andiamo qui e prendiamo per esempio un altro disegno e poi ce lo andiamo a sistemare ma a differenza che qua dice che sono uscita fuori dal telaio quindi posizioniamo diversamente a differenza del appunto per quanto riguarda questo e la broder è molto più limitate le modifiche che si possono effettuare anche se vogliamo possiamo anche aggiungere non so qui abbiamo tutti i vari disegni possiamo aggiungere il testo quindi scriviamo qualcosa aspettate ok e questo è il testo il testo in questo caso non si può curvare si può ingrandire si può ruotare ma non si può assolutamente curvare possiamo decide di separare le lettere quello si possiamo creare una copia quindi se vogliamo fare due scritte uguali ma non non più di questo possiamo cambiare i colori quello si perché se noi andiamo qui decidiamo quali colori cambiare per esempio il nero possiamo diventare un blu quindi questo nero io lo vado a cambiare scegliamo si va beh qui vi viene indicato tutti i vari spolette quindi le varie le marche di colore di filo una ne sceglie una e poi dopo una volta selezionata vai e decidi di cambiare vedete in questo caso è diventato grigio se non lo facciamo dentro quest'altro colore insomma questo sì si può fare però è molto più limitata a differenza della broder le modifiche che possiamo farlo una volta che abbiamo scaricate se no altrimenti dobbiamo avere una un programma sul computer e fare le modifiche prima di metterle in macchina per quanto riguarda l'anecchi io insieme alla macchina ho anche acquistato driving che è un appunto è un programma di ricamo quello che ho acquistato io è il base ma comunque anche se è il base si possono far tantissime modifiche tantissime cose mentre per quanto riguarda la broder volendo potete acquistare un programma proprio della broder dove anche lì potete fare tantissime modifiche da quello che ho potuto vedere perché appunto io non ce l'ho il programma della broder però da quello che ho potuto leggere vedere è molto simile a questo dell'anecchi quello che posso dirvi è che il programma della broder quindi se acquistate una broder e il programma potete anche collegare quel programma alla scan cart e così che sia la ricamatrice che la scan cart comunicano insieme per fare quindi delle lavorazioni insieme non so se tipo dobbiamo tagliare il tessuto in un certo una certa misura in un certo modo possiamo tagliarlo con la scan perché il progetto già dice questo e poi metterlo sulla ricamatrice che verrà ricamato questo è una cosa in più che ha ovviamente il programma della broder perché la scan è brother la macchina è brother quindi hanno creato questa associazione mentre per l'anecchi il programma drawing non è un programma direttamente dell'anecchi ma l'anecchi se andate sul sito proprio della casa costruttrice dell'anecchi vi dice insomma se volete potete acquistare questo programma perché è un programma universale infatti io l'utilizzo anche per la broder ed è per questo che non ho comprato insomma il suo programma perché avevo già acquistato quest'altro questa è l'anecchi che attualmente io ho acquistato e quando l'ho acquistata era l'ultimo modello quello diciamo con degli aggiornamenti e miglioramenti a differenza dei precedenti ma sotto natale l'anecchi ha tirato fuori un nuovo modello questo nuovo modello è molto simile alla broder infatti è molto più grande come macchina però a differenza della broder è anche macchina da cucire quindi ve lo dico giusto a titolo informativo perché se qualcuno gli interessa avere una macchina quindi dove può sia ricamare che cucire ma con un telaio più ampio perché torna a ripetere il telaio dell'anecchi purtroppo non è molto grande c'è questo modello nuovo che è uscito che fa moltissime cose molto più aggiornato di questo qui che ho io attualmente il costo è nettamente superiore infatti il costo di questa nuova macchina della necchi sono 3490 questo l'ho visto l'altro giorno sul sito quindi se andate sul sito della necchi la trovate potete vedere tutte le caratteristiche che ha questa nuova macchina mentre calcolate che la broder che però solo ricamatrice non è macchina da cucire sta di listino sui 2005 2009 quasi 3000 euro costa meno ma non ha la funzione per cucire è solo per ricamare mentre per quanto riguarda questa qui che ho acquistato io se la comprate solo la macchina senza il programma che vi dicevo costa 849 euro con il programma invece quello base che è quello che ho io sai sui 949 euro quindi con 100 euro in più avete anche il programma calcolate che il programma se lo andate a comprare da parte vi costerà dalle 300 euro in su quindi o l'acquistate entrambi se decidete acquistare questa macchina ovviamente o se no poi e dovete prenderlo da parte ma vi costa di più io l'annecchi l'ho acquistata direttamente sul sito dell'annecchi quindi non sono passata tramite intermediari o altri venditori e quindi non so se poi passando tramite altri venditori se è possibile perché non so se anche se è possibile qualora fosse può darsi che la pagate un pochino di più se andate di 30 sul sito dell'annecchi l'annecchi poi potete fargli tutte le domande che volete vi risponderà per chiarirvi magari dei dubbi che potete avere se invece volete comprare la brother io per la brother ho visto che almeno io non l'ho trovato il sito ufficiale brother che vendeva la macchina direttamente mi sono affidata ad un intermediario e questo intermediario posso dire sono contenta di essermi affidato perché ti segue passo passo fa tanti corsi proprio per spiegare il modello di macchina che voi avete scelto e vi dà tantissime agevolazioni tantissime cose come ricami in più mi ha dato un altro programma che essenzialmente non utilizzo perché quello che ho comprato dall'annecchi è molto valido e la brother l'ho comprata tramite la trimac se andate sul sito della trimac però noterete che non c'è il prezzo ma vi dice di contattarli questo perché perché questo modello di macchina la v3 la trimac varia il prezzo molte volte fa delle offerte infatti io l'ho comprata in un momento era sotto natale dell'anno scorso e ho trovato un'offerta veramente strepitosa e quindi loro evitano di mettere il prezzo contattateli al limite e chiedete il prezzo e chiedete informazioni poi loro vi sanno dare tanti consigli pure in base alle vostre esigenze perché appunto essendo un rivenditore loro hanno tante marche tante macchine e vi saranno poi consigliare qual è quella più adatta a voi un'altra cosa che ecco mi stavo dimenticando di dirvi è che molto spesso mi viene chiesto quali sono i file che le macchine leggono l'anecchi ha tantissimi file e poi qui sotto in descrizione magari ve li scrivo perché inutile da adesso vi sto dicendo quali sono poi le andate a leggere qui sotto mentre per quanto riguarda la brother sulla macchina io scarico i file però se comprate il programma quello della brother che si chiama brode che design quel programma vi trasformerà i file anche quindi file che possono essere che vi posso dire è un pass oppure un pack un xp che sono i file che normalmente si possono trovare per il ricamo ve li posso trasformare in pes o altrimenti fate come faccio io utilizzando appunto programma drawing e quando vado a salvare lo salvo in pes così so che poi lo posso utilizzare anche per la brother perché appunto quel programma è un programma universale che adatto anche per questo per tutte le macchine se volete saperne di più riguardo al programma della droving qui sotto vi lascio il link che ho fatto alcuni video riguardo appunto questo programma così che potete anche vedere per capire un pochino come funziona il programma e poi sempre qui sotto vi lascerò il link dei video che ho fatto riguardo l'applicazione della necchi perché c'è tanto da dire sia dell'uno che dell'altro se poi siete più indirizzati su una macchina anziché sull'altra anche riguardo ciò ho fatto più video riguardo la necchi e più video riguardo alla brother quindi o andate direttamente sulla mia pagina e li troverete tutti i video le ho divisi nelle varie playlist così insomma potete anche andare e direttamente sulla playlist che vi può interessare o quella della brother quella della necchi o del programma insomma quelle che vi possono interessare andare lì e vederli un'altra cosa che molto spesso mi chiedono è ma adesso stai utilizzando di più la brother stai facendo vedere come fare determinati lavori con la brother e con la necchi allora quando io vado a ricamare con la brother le stesse cose che voi vedete quindi non so quando ho fatto le presine farle con la brother o farle con la necchi o farle anche con un'altra macchina che sia un'altra casa costruttrice è la stessa identica procedura quindi voi non è un discorso di macchina la procedura è la medesima ecco l'unica cosa dovete tenere presente al momento dell'acquisto è la grandezza magari del telaio perché ecco io a un certo punto mi sono resa conto che il telaio dell'anecchi era troppo piccolo per le mie esigenze per quello che io volevo realizzare e questo non vuol dire che non si può realizzare cose grandi si possono sempre realizzare solo dovete fare più passaggi dividere il disegno quindi il ricamo in più parti perché tu lo puoi anche dividere in 3-4 parti e fai prima una parte poi lo manda la macchina alla seconda parte però rimane un po' più lungo e un po' più elaborata la situazione mentre con la brother tutto questo non c'è perché ha un telaio torno a ripetere un 20x30 che è un bel telaio grande e per ora quello che ho potuto vedere è la macchina con il telaio più grande per una macchina che costa comunque sotto i 3.000 euro perché se no ci sono anche macchine a 15-16.000 euro quindi poi quello sta a voi però per una macchina che sta sotto i 3.000 euro che già sono abbastanza impegnativa come somma è quella che ha il telaio più grande quindi tenete conto in base a quello che voi volete fare se volete fare solo dei piccoli ricami delle scritte eccetera va benissimo l'anecchi se avete bisogno sia quindi una macchina da cucire che una ricamatrice va benissimo perché poi l'anecchi anche per la parte del cuscito ha tantissimi ricami ha tantissimi punti diversi quindi anche questo è buono infatti io per ora la sto utilizzando soprattutto per il cuscito anche perché così non sto sempre a cambiare appunto il piedino tutte le altre parti della macchina e utilizzo la brother invece solo per il ricamo questo poi dipenderà da voi e dalle vostre esigenze io non posso qualcuno mi ha chiesto qual è meglio quale mi consigli questo dipende da voi dovete valutarlo voi perché ovviamente dipende dalle vostre esigenze io penso di avervi detto tutto vi invito a iscrivervi al mio canale se il video vi è piaciuto di accendere la campanellina qualora insomma vi iscrivete così che vi arrivano poi alle notifiche dei video futuri se avete dubbi e domande scrivetemelo qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un bel like se vi fa piacere che il canale possa crescere condividetelo così che lo possono vedere più persone il canale può crescere e io posso continuare a fare altri video per ora vi saluto vi do appuntamento al prossimo video ciao amici a presto